buongiorno a tutti edizione straordinaria oggi perché straordinaria perché avevo in realtà previsto di continuare col mio piano d'azione col mio calendario dei video previsti ma a seguito di alcuni messaggi in particolare un email di alberto lamandini che ringrazio che stanno cercando di fare l'esercizio sulle reference che ho proposto negli ultimi contenuti hanno avuto appunto una difficoltà nel capire cosa intendessi per spazio sonoro e mi rendo conto effettivamente di non aver approfondito abbastanza il tema quindi chiedo scusa e rimediamo subito oggi mi trovate in una situazione un po diversa vedi che non sono nel mio studio ma in quella che è la mansarda di casa dei miei non proprio la casa dove sono cresciuto ma la casa comunque dove ho iniziato a fare musica anni fa e questo luogo ancora oggi è un luogo che mi richiama per cui lo uso ogni tanto con in accordo con loro per fare alcune registrazioni quando come dire cerco questo tipo di acustica che non trovo in altri studi o in altre situazioni e oggi in particolare sto registrando delle parti di piano nonostante sia uno strumento sul quale mi sento piuttosto handicappato devo dire la verità per un progetto molto interessante che spero di portarti presto il progetto di due canzoni di nicolò martire allora spazio sonoro quindi grazie alberto per aver tirato fuori la cosa e per avermi dato questo spunto cosa intendo per spazio sonoro intendo una cosa molto letterale in realtà proprio il modo in cui percepiamo lo spazio quando ascoltiamo una musica e ci sono due elementi fondamentali all'interno del cappello macro cappello spazio sonoro uno è proprio la posizione all'interno dell'immagine stereo quindi il panning sostanzialmente o nel caso dell'atmos ovviamente insomma la posizione proprio spaziale e l'altro che in realtà non dipende dalla quantità di diffusori che noi usiamo per per la riproduzione della musica ma quindi è un elemento che vale anche per il suono monofonico è la percezione di posizione nella profondità e questa cosa ha radici molto antiche adesso senza farvi un pipozzo storico però se pensiamo alle prime registrazioni veniva usato un microfono solo all'interno della stanza e per cambiare il mix proprio diciamo così l'equilibrio tra le varie tra i vari elementi tra i vari musicisti i musicisti si allontanavano o avvicinavano al microfono appunto e questo si cambia l'intensità sonora ma cambia anche quello che è il rapporto tra il suono diretto e il suono riverberato cioè per farla brevissima il suono della mia voce per arrivare al microfono ci mette pochissimo in questo caso perché sono molto vicino mentre il suono riflesso ci mette molto di più perché va fino al tetto e torna e torna indietro va fino al soffitto e torna indietro ecco quindi la percentuale tra questi due suoni sono diretto e suono riflesso che si determina avvicinandosi o allontanandosi dal microfono da un effetto che non è soltanto di intensità sonora di quello strumento ma anche di quanto viene percepito lontano ok chiaramente tutto questo è stato poi anche simulato attraverso l'utilizzo di riverberi di mandate eccetera eccetera insomma e quindi quando io dico di analizzare lo spazio sonoro di un brano intendo proprio di focalizzarsi su questa questione qua no su quanto noi percepiamo distanti o ravvicinati certi strumenti di quanto sentiamo la stanza di ripresa o nel caso di riverberi artificiali riverbero artificiale e poi in secondo luogo a livello di proprio posizionamento nell'immagine stereo capire come sono posizionati gli strumenti e ovviamente questo anche nell'ottica di capire quando una performance è reale cioè ad esempio se siamo nella stessa stanza tutti assieme a suonare e quindi si sente la effettiva distanza e l'effettiva posizione degli strumenti o quando invece è uno spazio sonoro virtuale costruito e perché è molto importante questa cosa perché capire quale tipo di spazio sonoro ti piace quale tipo di spazio sonoro senti tuo e come dire percepisci affine al tuo modo di fare musica determina moltissimo quello che sono poi le scelte di registrazione ad esempio qua banalmente a seguito dello studio che abbiamo fatto sul suono che volevamo ottenere questo pianoforte in questo momento è stato registrato con un certo tipo di tecnica cioè vedete questi due microfoni sulla parte davanti molto vicini che prendono proprio il suono delle corde e anche delle meccaniche perché qua se io banalmente schiaccio il pedale si sente molto anche se se sto molto delicato si sente molto questo suono sul retro ci sono altri due microfoni che prendono tutto un altro tipo di suono molto più morbido che sarà in realtà il suono principale usato in queste canzoni e in questo caso non avevamo così bisogno di riprendere l'ambiente per cui c'è giusto un microfono dinamico mono là per terra per riprendere un pochino l'ambiente in altri casi ho usato una tecnica completamente diversa perché il risultato che volevamo ottenere proprio a livello appunto di spazio sonoro quindi di resa della ripresa ambientale era completamente diverso ma al di là anche delle scelte tecniche è proprio il modo in cui viene percepita poi la musica cioè una musica con un certo tipo appunto di profondità può avere un effetto completamente diverso per cui quando analizzi i tuoi brani che vorresti che fossero reference e scegli quale ti piace per spazio sonoro focalizzati proprio su come ti piace percepire la musica vuoi che tutto sia molto asciutto e in avanti e ultra presente tipo un muro di suono che ti arriva addosso vuoi sentire molta profondità perché sono cose molto diverse sono scelte anche molto diverse che impattano moltissimo sul modo di arrangiare sul modo di produrre sul tipo di studio da scegliere sul tipo anche di strumenti e di microfoni da scegliere e anche sul numero tra l'altro di di microfoni necessari per per fare un certo tipo di produzione o meno quindi è bene avere subito chiaro qual è il tipo di suono che si sta cercando che chiaramente deve essere sempre come dire affine a te e rappresentativo un po di quello che è il tuo mondo il tuo immaginario appunto sonico potrei portarti semplicemente degli esempi per fartelo capire ad esempio ascoltati che so io no one knows dei queens of the stone age dal dall'album song for the death e lì sentirai un certo tipo di di suono un certo tipo di spazio sonoro un certo tipo di o meno ambiente e riverberazione e subito dopo vatti a ascoltare il disco exodus di bob marley and the whalers ad esempio ti direi natural mystic oppure anche altri brani sempre sempre di bob and the whalers come potrebbe essere is this love per esempio no vai a sentirti quei brani e fa il confronto con i brani di dei queens of the stone age da song for the death o anche magari un certo una certa band la stessa band o lo stesso artista nell'arco della sua carriera come cambia il proprio il proprio spazio sonoro come cambia la dimensione del suono non lo so i vecchi dischi dei pink floyd rispetto ai dischi degli anni 80 sempre dei pink floyd potrebbe essere un esempio ma ce ne potrebbero essere un milione anzi ti invito anche a portare dei tuoi di esempi parliamo di questo tema di spazio sonoro è un tema che evidentemente non è trattato abbastanza altrimenti non ci sarebbero state queste domande non ci sarebbero stati questi dubbi ed è un tema importantissimo perché appunto è il è la prima chiave della percezione quando tu ascolti una musica vieni è proiettato immediatamente in un certo tipo di mondo a seconda se il suono è molto ambientale se il suono è molto asciutto se gli strumenti sono tutti spiattellati davanti se gli strumenti sono posizionati in modi diversi nello spazio se sono più lontani se sono più vicini non so un altro esempio per andare nella nella musica anche da altri tempi vatti a sentire i dischi degli anni 50 dove c'era una ripresa ambientale molto forte c'erano pochi microfoni e tanti musicisti assieme per cui la ripresa lì è veramente ambientale nel senso che tutti suonano assieme nella stessa stanza magari anche in 7 8 9 10 persone e si sente molto chiaramente la posizione degli strumenti rispetto ai microfoni per cui senti magari più riverbero naturale su alcuni strumenti meno su altri senti che magari è stato aggiunto del riverbero artificiale su alcune su alcuni elementi ad esempio la voce ad esempio su altri no insomma cercare di focalizzarsi un attimo su quello che sono proprio gli elementi che costruiscono la non so trovare un altro termine per spazio sonoro questo è spero di essere stato chiaro spero di averti dato delle delle chiavi di lettura per svolgere questo esercizio che ti ricordo puoi trovare al link in descrizione è un esercizio totalmente gratuito che ti invito a svolgere perché un esercizio veramente molto utile per capire in che direzione vuoi andare con la tua musica proprio a livello di suoni a livello di stile capire un po come costruire il tuo sound passa proprio dal capire il sound degli altri passa proprio dal riuscire veramente a analizzare e ricordarsi gli elementi del sound altrui perché se non sei in grado di capire gli elementi del sound altrui non sai nemmeno che elementi scegliere tu per costruire il tuo ed è molto importante avere chiara questa cosa altrimenti il grande rischio è che quando si scelgono i brani reference se arrivi poi in produzione che si dice ah ok figo abbiamo seguito esattamente cavolo abbiamo seguito questa reference il brano che abbiamo fatto suona esattamente come la reference però non mi piace e questa cosa succede perché perché a volte un artista non è consapevole del perché un brano gli piace perché una reference una reference magari ti piace un momento della linea del basso magari ti piace il suono della voce magari ecco capire questi elementi e quindi selezionare dei brani in base agli elementi in modo che le reference sia chiaro per cosa servono non servono per scopiazzare non servono per ispirarsi così a caso che non vuol dire niente ma servono proprio per dare un'idea a chi lavora con te sul tuo progetto musicale su che tipo di risultato vuoi ottenere e su come raggiungerlo quindi se tu capisci che ad esempio un brano è una reference per proprio questo elemento dello spazio lo dici che è quell'elemento che ti piace che non è magari proprio la melodia o il modo in cui è suonata la batteria ma più come suona il l'insieme no quindi come l'impatto generale del brano mentre quando sceglierai per gli altri quattro elementi che lo ricordo sono il flow arrangiamento ritmico di cui andrò ad approfondire il tema nel prossimo video l'arrangiamento strumentale la linea melodica principale o linea vocale e il contenuto ecco ovviamente separa bene queste cose in modo che ti sia chiaro ma lo so sembra magari un esercizio un po meccanico e che dici e vabbè ma a me piace questo quello quell'altro sì però se tu riesci a veramente a separare in questi in questi cinque macro elementi in queste cinque macro aree il motivo per cui una un brano che tu scegli può essere o meno una reference per il tuo progetto ti sarà molto più chiara l'immagine generale dei lavori riuscirai in modo molto più chiara a comunicare con chi lavora con te e quindi sarà molto più semplice portare la tua idea al suo massimo sviluppo ti ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video per parlare di timing o flow e arrangiamento ritmico